Noi qui stipuleremo un contratto di un civile legame d'amore, confermato dalla mutua stretta delle mani, attestato dal sacro a avvicinarsi delle lacra e rafforzato dal reciproco scambio degli anelli. Ma possiamo farlo più nella foresta o dobbiamo andare altrove per celebrare il matrimonio? Ma che matrimonio? E' da un infame che dice che tale padre possa aver generato bastardo. Se non poste mio fratello, non toglierai questa mano dalla vostra, non la finché quest'altra, non mi avesse strappato la lingua per aver parlato così. Calmatevi, dolci fratellini, per la memoria di vostro padre, frontifica! Un attimo, vi dico! Non lo farò quando mi ascolterete! Bicca di sinistra! Bicca di sinistra! Un attimo, vi dico! Grazie a tutti.